Tutto è successo qualche anno fa, c'è stata la crisi economica mondiale peggiore della storia. Made in China Napoletano, una divertente commedia di Simone Schettino che pone l'accento con ironia sugli effetti prodotti dalla globalizzazione. Vittorio, protagonista del film, si trova in una grave crisi economica. Il titolare di un negozio di giocattoli soffre la concorrenza del suo dirimpettaio, un giocattolaio cinese. Il regista e parte del cast, gli attori Tosca d'Aquino, Benedetto Casillo, Angelo di Gennaro, Rosaria d'Urso e Mimmo Ruggero, sono partiti per un tour di incontri con il pubblico, nei cinema del territorio napoletano. La sua prima tappa lucica storia di Napoli, dove abbiamo ascoltato Simone Schettino. In genere si sa, voglio dire, la risata aiuta molto, però a volte non è complicato farlo capire, a volte sono problemi che ognuno di noi ha dentro di sé e basta che poi sapere che anche altri lo vivono allo stesso modo ed ecco che diventa più chiaro, più visibile. E ad esempio questa invadenza della merce che arriva dall'estero la subiamo da anni e per quanto possa essere più economico lo sappiamo, spesso abbiamo anche difficoltà con la qualità di questi prodotti, ma in più io mi preoccupo di tutte queste piccole e medie aziende locali, ma che fine faranno? Ma come verranno reintegrate queste persone che oramai stanno chiudendo giorno per giorno e le loro aziende perché siamo invasi in un mercato globalizzato da merce che non è concorrenziale, hanno già vinto e purtroppo il costo è la mano d'opera, è talmente irrisorio e basso per questa merce che arriva dall'estero che non puoi più andare avanti con una piccola e media azienda italiana. E allora con questo che voglio dire, è chiaro che dovrebbe essere proprio un problema vissuto a livello nazionale, una priorità per il governo, per la nostra economia, cercare di mantenere aperte e vive tutte le piccole e medie imprese che poi hanno fatto la fortuna dell'Italia nel mondo. Era quel meraviglioso Made in Italy che prima acquistavamo tutti e che soprattutto ci rendeva fieri e orgogliosi dovunque andavamo. Oggi è diventato prodotto di nicchia, prodotto di lusso, lo comprono per buona parte all'estero. Chiaramente il fatto che sia completamente diverso dal palco mi ha dato un entusiasmo ma soprattutto un timore, un sano timore. Ogni volta dovevamo filmare e poi il fatto che anche per un minuto, un minuto e mezzo a volte si può perdere una giornata intera, ma intoniamo proprio idea di questi tempi e di questi ritti. Ero quasi convinto, non dico in tempo reale, ma quasi in quel momento c'era una camera che riprendeva tutto quello che si faceva, non aveva idea di cosa poteva significare una giornata passata con 25 ciac per una battuta. Ma se lo sapeva, lo avendo con...